Albano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo, inoltre ha vinto 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. Ad attirare l'attenzione di tutti è stato il curioso nome che Romina Ilunga R e il suo compagno hanno scelto per il loro piccolo. Nel corso dell'intervista al noto settimanale italiano è stato proprio Albano a spiegare il significato del nome Axel in ebraico significa signore della pace, ha raccontato il cantante a di più tv. Il secondo nome del bimbo, lupo, deriva dalla passione di Romina per questo animale, forte, coraggioso e che l'ha sempre affascinata. A tal proposito, Albano ha dichiarato che è ormai una tradizione di famiglia usare nomi particolari, a partire dal suo. Il noto cantante ha rivelato l'origine del suo curioso nome di battesimo, da imputare proprio al suo papà. L'uomo infatti, era soldato in Albania durante la seconda guerra mondiale, e proprio lì, ha incontrato tantissima ospitalità. Per questo motivo il papà di Albano aveva promesso di omaggiare quelle splendide persone chiamando il suo primogenito proprio così.